Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Per la cantieristica anche stanotte e domani notte in A1 per lavoro di pavimentazione sarà chiusa l'entrata di Arezzo in direzione Roma in orario 22.6. In Fipili ricordiamo i cantieri aperti tra la Strassigna e Ginestra con rallentamenti nei due sensi di marcia. Si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza. Per gli stessi lavori segnaliamo la chiusura dell'entrata di Ginestra in direzione mare. Informiamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Ultima pagina per il traffico ferroviario. L'Orostar Frecciarossa 9430 Napoli Centrale Venezia Santa Lucia sta viaggiando con 18 minuti di ritardo. Il transito a Firenze Santa Maria Novella al momento previsto alle 15.40 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!